non avete appuntamento voi due? non sapevamo come prenderlo voi cosa cercate? noi cerchiamo aiuto ah di già eh avete fatto il gran salto appena due mesi fa e già volete aiuto? sì sì certo due mesi ma questo cosa significa? che vi brucerete subito e vos si sbonis aiuto modulo del 90 bisogna passare 125 anni sulla terra e tutti dentro quella casa durante il quale il modulo del 90 vi dà diritto a tre soli colloqui con giuno è evidente che non avete letto bene Emanuele che vi è stato dato e dovete aspettare che vi chiami se non avete appuntamento appuntamento con chi scusi? ma con giuno la vs si sente tombale numero 64 milioni 601 segno fernando